Tornando alla direzione marittima, una direzione marittima che prima era stata qui a Civitavecchia, era stata poi spostata a Fiumicino, se non erro, è di nuovo tornata in padria. Ecco, un onore per la Capitaneria di Porto, che cosa potrebbe comportare? Ma guardi, intanto la Capitaneria di Porto Civitavecchia era direzione marittima, o lo è stata direzione marittima, fino al 1994. Quindi dal 1994 in poi fu portata a Fiumicino per motivi di opportunità, più vicino a Roma, quindi la Capitaneria di Porto di Roma e direzione marittima. Oggi la situazione è un po' cambiata, Civitavecchia è diventato il porto più importante del Lazio e non solo, e quindi si è ritenuto opportuno riportarla a Civitavecchia, anche perché c'è una, per quanto riguarda l'attività che noi facciamo in collaborazione insieme all'autorità portuale, ed è un network oggi l'autorità portuale, voi sapete che l'autorità portuale ha in network di Civitavecchia, Fiumicino e Greta, e avere il direttore marittimo che è il coordinatore delle capinerie del Lazio, ovviamente è un fatto più prestigioso. E poi comporta anche avere degli uomini in più, di mezzi in più, quindi tutta un'attività che ovviamente porterà sicuramente dei benefici a Civitavecchia, chiaro anche in motivi di gratificazione e di orgoglio. Io ne sono poi particolarmente orgoglioso perché sono stato qui da giovane ufficiale, ci sono tornato da comandante e oggi sono il direttore marittimo e questo mi fa molto piacere e mi gratifica molto. Ecco, una, dicevamo, porterà sicuramente degli uomini in più che si occuperanno essenzialmente anche del controllo di tutto il territorio. Sicuramente, andremo a fare, è chiaro che da qui la direzione marittima avrà il coordinamento come dicevo di tutto il Lazio e quindi da qui avremo un certo tipo di controllo che andrà anche oltre, anche se lei sa che poi noi abbiamo tutta una serie di uffici dislocati lungo il territorio, quindi i controlli già vengono effettuati dai vari uffici, abbiamo Gaeta a livello di cabineria, abbiamo Fiumicino che rimarrà, poi Civitavecchia, poi ci sono tanti altri uffici minori, quindi una serie di uomini già li abbiamo dislocati lungo tutto il territorio. Ecco, quindi una situazione anche felice per il territorio in numeri di occupazione, in un periodo soprattutto di crisi come questo. Io mi auguro che su Civitavecchia arriveranno almeno, ma non subito, ma man mano nel tempo, arriveranno almeno altri 50 uomini. Ecco, parlavamo appunto di Civitavecchia che negli ultimi anni è diventato uno dei porti più importanti e prestigiosi, vediamo quotidianamente arrivare qui in porto tantissime nave da crociera, quindi un maggiore controllo da parte della capitaneria di porto e maggiore attenzione va appunto a queste navi, con dei controlli sulla sicurezza. Certo, la sicurezza sulle navi è una delle attività alle quali la capitaneria tiene di più. Civitavecchia è inutile di nascondere, lo si vede, è un porto oggi di primaria importanza, in porto internazionale, nel Mediterraneo, per le attività navi da crociera, non a caso parlare di navi da crociera, sicuramente il primo, abbiamo nei porti Civitavecchia, l'anno scorso, ma credo, parlo del 2011, abbiamo avuto più di mille navi e quindi noi abbiamo un nucleo di persone specializzate, qui Civitavecchia c'è un nucleo di persone specializzate che si chiamano PSC, Port State Control, che sono quelle che verificano la sicurezza sulle navi, periodicamente e sistematicamente. Oggi che siamo direzione marittima e mi riallaccio a direzione marittima, avremo anche il coordinamento di queste attività nel Lazio, quindi Civitavecchia avrà il coordinatore PSC, cosiddetto, per quanto riguarda la regione Lazio, dove noi, ripeto, andiamo sempre, rinnovi certificati, visite intermedie cosiddette, quindi queste navi vengono continuamente e costantemente monitorate. Ovviamente non solo le navi da crociera, tutte le io, ma anche di navi da carico, di merci, rorro e tutto. Ecco, quando parliamo invece di navi da carico, quindi navi merci e tutto quanto, ci sono una routine, una procedura diversa di controlli che vengono apportati su queste navi? No, 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 le procedure sono le stesse, cambiano ovviamente le richieste, una nave da crociera, una nave passeggeri ha delle esigenze in più, deve avere delle cose in più, ma la legge è sempre la stessa. Per quanto riguarda la sicurezza, a parte vedere la Capitaneria di Porto, sempre impegnata nel monitorare le acque, come dicevamo poco fa, anche per quanto riguarda la pesca illegale, sicuramente essendo qui a Civitavecchia, essendoci una città ovviamente dove ci sono tanti giovani, bambini che magari si affacciano anche per la prima volta alla navigazione, ci sono dei corsi di sensibilizzazione nelle scuole, dei progetti che la Capitaneria sta portando avanti? Guardi, noi devo dire che questa cosa l'abbiamo sempre fatta, io ho ripreso, ho continuato un'attività che ho già trovato dai miei predecessori e l'ho intensificata, ed è quella di andare presso le scuole, soprattutto i bambini, le scuole elementari, nei circoli didattici, a informare di quello che fa la Capitaneria, a fargli visitare i porti, noi portiamo qui a volte anche classe di ragazzi, ovviamente con qualche difficoltà, perché lei capisce non è una cosa facile, però ci stiamo provando, perché io sono convinto che questa sensibilizzazione è importante in fondo dai ragazzi, il rispetto del mare, capire che cos'è il mare, che cos'è l'ambiente è fondamentale, quindi sicuramente mi auguro che questa cosa possiamo anche quest'anno portarla avanti. E che tipo di risposte si è avuti da questi ragazzi? Una volta arrivati qui al porto, mostrate le attività svolte dalla Capitaneria, magari restando in prima persona quello che gli uomini della Capitaneria svolgono? Ma guardi, devo dire che i ragazzi sono straordinari, perché dimostrano un interessamento veramente incredibile, sono curiosi, vogliono sapere, quindi ritengo che veramente sia una cosa positiva, ho trovato un risconto estremamente positivo. Recentemente è in programma qualche attività della Capitaneria? Ma guarda, sì, abbiamo qualcosa che vorremmo fare, adesso siamo in continuo contatto con i circoli didattici, per esempio l'anno, l'anno, due anni fa abbiamo organizzato una mostra, abbiamo fatto una gara di pittura, quest'anno vorremmo fare la stessa cosa, adesso inizieremo la nostra attività, ha subito dopo, appena passato questo momento di festività che insomma ci dà questa possibilità di metterci di nuovo al lavoro. Io la ringrazio tantissimo per aver risposto alle nostre domande. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità. Speriamo tra l'altro che l'operato degli uomini della Capitaneria di Porto, soprattutto ritornando alla nave da crociera, possa compiersi e quelle persone che attualmente risultano disperse, magari per miracolo, che sono ancora vive. Abbiamo ascoltato le parole del comandante Nitrella, intanto per tornare ancora una volta alla nave affondata lungo la costa del Giglio, notizie Anza dicono che a causa del mare mosso la nave Concordia ha iniziato a muoversi dalla posizione in cui si era incagliata. Il coordinamento dei soccorsi ha sospeso le ricerche e evacuato i sub di Vigili del Fuoco e Capitanerie. Al momento la nave si è spostata di 9 cm sulla verticale e 1,5 cm in orizzontale. Intanto il rischio per l'ambiente rimane altissimo. L'obiettivo è di evitare che il carburante esca dalla nave. Stiamo lavorando su questo, l'intervento è urgente e abbiamo fretta. Lo ha detto il ministro dell'ambiente Corrado Clini parlando del rischio ambientale dovuto al naufragio della costa Concordia. L'area interossata del possibile rischio ambientale dipende dalle correnti, sicuramente l'isola del Giglio, probabilmente l'intero archipelago, forse la costa. Dipende da come si muove il mare. Con questa, chiudiamo qui la nostra parentesi di newsroom, per rivederci ancora una volta domani. Vi ringrazio per essere stati con noi e cedo la parola al telegiornale.